Peppe, la vigilia per te è importante perché insomma tua moglie sta per darti il quarto figlio ma tu riesci sempre ad essere il migliore in campo, dedizione, corsa, oggi hai ricoperto quattro ruoli insomma, qual è il segreto di Peppe Mascara? Non c'è nessun segreto, l'importante è allenarsi bene durante la settimana e stare bene mentalmente e poi il frutto di quello che fai la settimana lo porti la domenica con tanta passione È chiaro che la tua vita è una vita, si vede che sei felice, insomma perché corri, ti diverti, non reagisci mai alle provocazioni insomma si vede che il calcio è ancora vivo per te, è importante Ma io l'ho sempre detto, lo continuo a sostenere adesso Il giorno in cui non riuscirò più a rincorrere un pallone, non mi diverto, sarei un peso soprattutto per i contanti Io spero che questa faccenda arrivi più tardi possibile Stiamo facendo delle cose grece, il campionato nostro sicuramente non finisce qua Adesso facciamo una settimana di pausa, ci ricalziamo e poi da martedì prossimo riprendiamo testa al campionato Grazie Peppe, auguri Grazie a voi